Benvenuti al TG10, oggi in apertura ci occupiamo della chiusura per tutto il mese di agosto degli uffici della Selit di Gela, il territorio perde un servizio strategico, un vero e proprio danno. Adesso molti utenti saranno costretti a recarsi a Caltanissetta sfidando le alte temperature di questi giorni. Casa Artigiani sottolinea che sono stati carpestati i diritti degli utenti. Da ieri gli uffici della Selit di Gela sono chiusi per tutto il mese di agosto e il territorio perde un servizio strategico, un vero e proprio danno. La denuncia di Antonio Rubio, presidente provinciale di Casa Artigiani, non è possibile, dice Rubio, che la città di Gela perde a pezzi così importanti. Adesso molti utenti saranno costretti a recarsi a Caltanissetta sfidando le alte temperature di questi giorni. Casa Artigiani ha già chiesto un incontro a livello regionale per capire i motivi di questa chiusura. Vorrei precisare una cosa importante, a domanda, si può chiudere un ufficio pubblico, perché mi sembra una cosa un po' strana, chiudere un ufficio pubblico, soprattutto in questo periodo. io dico, prima faccio una prefezione, la settimana scorsa è accaduto all'ufficio del lavoro per un guasto a un motorino e chiudono l'ufficio per quattro giorni, adesso la Selit che chiude per un mese e a questo punto c'è un problema molto grave, siccome tocca sempre a questa città pagare sempre delle ingiustizie, ma questo riguarda anche non solo il personale che giustamente una volta chiuso sarà dirottato in altri posti, ma qua viene meno, viene calpestata la dignità delle persone e di tutta la popolazione gelese e metto anche il comprensorio perché se il Tigela, come l'Agenzia delle Entrate, ha un bacino del comprensorio, quindi Buterani, Scemi, Mazzarino, c'è un bello. Io invece voglio fare un appello, siccome siamo e sono, i nostri politici sono tutti in campagna elettorale e nessuno si rende conto cosa sta accadendo in questa città che è sempre denigrata e calpestata, a questo punto io lancio un messaggio. Io spero che a livello regionale e a livello anche amministrativo comunale, io spero che dalle prossime elezioni ci sia un cambio di generazione, cioè basta più questi signori seduti a non fare sicuramente, io voglio dire c'è qualcuno che farà il suo lavoro per carità, però abbiamo una grande maggioranza che non gliene frega niente di questa città. Io lavorerò sempre per quanto riguarda, anzitutto per il rispetto delle istituzioni e quindi io spero prima delle ferie o dopo, abbiamo preso un appuntamento presso l'assessorato per decidere il motivo di una chiusura di un ufficio pubblico, posso capire un paio di giorni, ci sono le disinfestazioni, può accadere qualche problema di ristrutturazione, ma un mese è veramente incredibile, adesso noi assistiamo soprattutto a persone di una certa età che non hanno il mezzo, prendono l'autobus, si devono regare a Caltanissetta 30-40 gradi e che in questi giorni i 40 si stanno superando, insomma qui viene calpestata veramente la dignità del popolo gelese. I carabinieri di Gela hanno arrestato un 27enne originario di Caltagirone, l'uomo già ai domiciliari, accusato di evasione e di avere aggredito per futri motivi a colpi di bastone assieme ad altre persone in via di identificazione un rumeno di 34 anni. L'aggressione si è verificata ieri in via Empedocle, nei pressi della vecchia stazione ferroviaria, dove a seguito di screzzi tra i due uomini il 27enne si è allontanato dalla sua abitazione e assieme ad altri complici ha aggredito la vittima. Il rumeno ha riportato lesioni multiple, ma non è in pericolo di vita. Il comune di Gela non commetterà gli stessi errori del passato, aderendo in modo inerte ad un nuovo carrozzone chiamato gestire un diritto fondamentale come quello delle risorse idriche dopo il fallimento dei commissari. Lo dice il sindaco di Gela, domenico messinese, nel corso dell'assemblea dei primi cittadini del Nisseno, ultimo territorio chiamato al traghettamento dal lato idrico allati. Su un tema così sensibile per la popolazione, ha detto il sindaco, non subiremo passivamente l'ennesima legge calata dall'alto che ha mostrato le sue debolezze in varie parti ritenute incostituzionali. Il sindaco di Gela compone uno gruppo ristretto di primi cittadini, assieme a Caltanissetta, Niscemi e Vallelunga, che in queste ore invierà alla regione siciliana un documento per chiedere legittimi approfondimenti sulla materia. Al vertice convocato a Caltanissetta intanto non si sono presentati né l'assessore regionale delle energie, vania contrafatto, né il dirigente generale. L'assenza è stata stigmatizzata contestualmente all'esigenza di coinvolgere i deputati regionali eletti nel Nisseno. Gli amministratori comunali attendono anche una relazione del commissario del libero consorzio dei comuni di Caltanissetta, Rosalba Panvini, presente all'incontro. E' intervenuto anche il segretario generale dell'Anci, Sicilia, Mario Alvalo. Partono domani e si concluderanno domenica 6 i festeggiamenti in onore di San Sebastiano a Gela. Alle 18 nella chiesa omonima, retta da donna Filippo Salerno, nel quartiere Settefarine è prevista la recita del rosario. Alle 18.30 Vespo e Coroncina. E alle 19 Santa Messa e Meditazione. Tanti gli appuntamenti inseriti nel cartellone. Una settimana di festa che culminerà domenica con la processione del simulacro del Santo. Celebrare la festa di San Sebastiano per noi nel quartiere Settefarini diventa importante perché ha dei legami con il passato e quindi ci riporta a vivere una festa di quartiere, quindi più familiare. La festa di San Sebastiano, quella liturgica, la celebriamo nel mese di gennaio, il 20 gennaio, però visto che in estate siamo tutti nella zona e quindi siamo nel quartiere, si era pensato e si è pensato nel tempo di poter ricelebrare di nuovo questa festa. Quest'anno assumerà un tono molto più pacato in quanto la festa sarà quasi parrocchiale, più intima, più sarà riflessiva e meditativa. Celebreremo un triduo che inizierà giovedì e sarà nella parrocchia dove tutti ci riduneremo attorno alla parola e all'eucaristia e dove condivideremo un tema che diventa per noi importante, siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione e perseveranti nella preghiera. E poi domenica, non ci saranno come negli anni passati, almeno negli ultimi tre anni fa, le luci, gli spari oppure la banda, ma ci sarà soltanto una brevissima processione attorno alla parrocchia, anche perché la parrocchia non può accollarsi tante spese, per cui ha fatto anche altre spese per la canonica, ma vuole essere un po' più pacata questa festa proprio per dire a tutto il quartiere che dobbiamo essere più uniti e dobbiamo sostenerci gli uni gli altri. L'amministrazione in questi ultimi anni passati non è intervenuta, non ci ha aiutato, quindi noi continueremo questa festa, ma a livello parrocchiale per dare questa continuità e anche il segno nel quartiere. Entrano in vigore domani, mercoledì 2 agosto, i nuovi orari della zona a traffico limitato nel centro storico di Gela. In corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via Marconi e via Trieste, sarà interdetto il transito alle autovetture dalle 18 alle 22, dal lunedì al giovedì, mentre dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi la ZTL sarà attiva dalle ore 18 alle ore 3. Si tratta di un provvedimento adottato dalla giunta municipale per il periodo estivo. E adesso parliamo del pellegrinaggio in mare della Madonna di Loreto. Domani tappa a Gela. L'appuntamento domani a Gela per il pellegrinaggio via mare è organizzato dalla Lega Navale Italiana. Su una canoa sarà gelosamente custodita la statuetta della Madonna di Loreto, benedetta da Papa Francesco. L'iniziativa intanto parte dalla città del Vaticano, dove Papa Francesco ha benedetto questa statuetta della Madonna di Loreto e viene portata da canoisti che hanno disceso tutto il nostro stivale, adesso stanno costeggiando la Sicilia, per portare questa statuetta al parroco di Lampedusa, a cui verrà data, assieme con una piccola raccolta di fondi che gli organizzatori hanno fatto con la Lega Navale di Terracina, per le esigenze della parrocchia di Lampedusa e per l'accoglienza ai migranti. Domani questa canoa arriva a Gela, è ospita della Lega Navale, la quale si avvalsa dalla collaborazione della Vela Club, e quindi arriverà al Vela Club, la statuetta verrà esposta nei locali del Vela Club e poi ripartirà dopo una giornata di meritato riposo dei canoisti sabato mattina verso Licata. Un viaggio che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sulla migrazione dei popoli e sull'aiuto agli esseri umani che lasciano la loro terra in cerca della vita. Chi l'ha organizzata, l'ha organizzata come un vero e proprio pellegrinaggio, non è esagerato parlare di pellegrinaggio in mare, ma è anche un'iniziativa che ha una certa valenza sportiva, perché in canoa due persone che scendono lo stivale e nell'ultimo tratto affrontano 90 miglia di mare aperto nel canale di Sicilia, seppure con l'assistenza di un mezzo nautico della Lega Navale di Agrigento, credo, è un'impresa che sicuramente ha anche una sua valenza dal punto di vista sportivo. Ricordiamo l'appuntamento domani a Gela, a che ore e dove? Domani l'appuntamento è per le ore 16, orario molto approssimativo, perché la forza delle braccia, la temperatura, lo stato del mare possono determinare anche ritardi nel percorso che stanno facendo da Marina di Ragusa verso Gela, quindi alle ore 16 e nella spiaggia prospicente il Vela Club di Gela. I protagonisti di questa impresa sono soci della Lega Navale della sezione dell'Ido di Enea, Terracina, e ovviamente si avvalgono di tutte le sedi della Lega Navale che vanno toccando e quindi domani saranno ospiti della sezione di Gela della Lega Navale italiana, naturalmente con la collaborazione del Vela Club. Un abbando pubblico per corsi gratuiti di ginnastica dolce per anziani lo ha promosso il Consiglio di Amministrazione dell'Operapia Principessa Pignatelli-Roviano di Gela. Il servizio è totalmente gratuito e i corsi, che inizieranno nel mese di ottobre e si concluderanno nel giugno del 2018, sono riservati ai soggetti socialmente più deboli, il cui reddito complessivo familiare non supera l'importo annuo di 8.298,29 euro per ogni componente il nucleo. Per informazioni rivolgersi al Centro Sportivo Opera Principessa Pignatelli-Roviano in via Feace 127 c'è un numero telefonico 0933 91 35 38, bisogna rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20. Nuovo format televisivo su Canale 10, in ambito musicale si tratta di un quiz karaoke che per partecipare basta mandare un sms al 324 84 11 869 indicando il nome, l'età e il brano che sarà eseguito. Sarete contattati subito dopo, ricordiamo il numero telefonico 324 84 11 869. Ci fermiamo a linea alla regia per la pubblicità. Ed eccoci, seconda parte del telegiornale, continuano a Gela gli interventi di disinfestazione e di abbatizzazione del territorio comunale. Oggi toccherà alle contrade Olivastro, Manfria, Roccazzelle, Femmina Morta, Marchitello, Fondo Iozza, Cantina Sociale e al tratto sud di via Venezia tra la villetta Peretti ed il semaforo all'angolo con via Tevere. Infine domani, giovedì 3 agosto, le aree interessate dal servizio saranno il villaggio Aldisio, lo stadio comunale, Carrubazza, via Cascino, via Verga, il quartiere Giardinelli, via Recanati, via Crispi e tutto il lato sud di Quattro Strade e quartiere Baracche, il cimitero monumentale, la parte meridionale del Corso Aldisio e tutto il quartiere San Giacomo. Si sono dati appuntamento al tramonto per scoprire le bellezze del Parco Dubini. Oltre i 50 le persone che hanno accettato l'invito dell'Associazione WWF e dell'Associazione Nazionale Guardia Boschi a prendere parte all'Alberitivo, un'eco passeggiata alla scoperta della natura, un parco quello del Dubini, scrigno di biodiversità floristica e arborea ma anche faunistica, un percorso lungo i viali dove partecipanti hanno potuto ammirare da vicino le specie arboree del parco, dal centro del Libano, simbolo di nobiltà, potenza e ricchezza ai maestosi pini, le cui foglie a forma d'ago sono considerate simbolo della felicità coniugale. Alle roverelle, agli eucaliptus, alle robinie, ai tigli. Da sempre il WWF, l'Associazione Guardia Boschi e le altre associazioni ambientaliste hanno visto in questo parco Dubini un patrimonio, un bene comune, un patrimonio della città, un'area verde purtroppo è stata massacrata da un intervento scellerato degli anni passati ma che finalmente grazie anche alla sensibilità della direzione dell'Aspe è tornato fruibile per i cittadini. Quindi questo è solo l'inizio per noi, vogliamo fare conoscere ai cittadini di Caltanissetta non soltanto la bellezza di questo posto, il suo valore storico, il suo valore anche botanico per le essenze che vi sono. Quindi da parte del WWF sicuramente il parco Dubini sarà un piccolo grande gioiello di questo territorio. La nostra idea è quella di aprire le porte, nonché il cancello di questo bellissimo parco ai bambini di Caltanissetta e dei paesi limitrofi perché è un piccolo polmone verde che è giusto fare conoscere e così anche valorizzare a tutti i cittadini e anche a quelli più piccoli. Si parla tanto di educazione ambientale nelle scuole, fin dalla scuola materna, media, superiore e quindi è giusto che anche qui a Caltanissetta si facciano questi percorsi. E ora parliamo di sport con le ultime notizie che interessano il Gela. Botto di mercato per il Gela. Vestirà la casacca bianca azzurra l'attaccante sardo Mattia Gallonna la scorsa stagione agonistica con la Sicula Leonzio, vincitrice del campionato di Serie D. Un vero e proprio colpo, quello messo a segno dalla dirigenza gelese che ha soffiato il giocatore alla concorrenza di altri club dell'isola. 25 anni alla sinistra con la possibilità di giocare anche come seconda punta Mattia Gallonna ha raggiunto già il ritiro di Zafferano e Tenea alle pendici dell'Ettera. Gallonna ha militato nel Cagliari in Serie A e ha vestito le maglie del Treviso, del Savona, dell'Interreggio, del Marsala e della Siracusa. Con la Sicula Leonzio ha totalizzato 26 presenze segnando 9 gol. Un profilo sicuramente valido, un ragazzo molto molto interessante che ha vinto due campionati consecutivamente con Siracusa e con la Leonzio. Era sicuramente uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati quando abbiamo iniziato a comporre la rosa, pian pianino, con calma, ma soprattutto battendo la concorrenza di parecchie e parecchie altre società siamo riusciti a portarlo con noi. E siamo molto contenti perché ci aspettiamo tanto da lui ma come dagli altri assolutamente. A Zafferano e Tanea il neottaccante Sardo ha ritrovato il portiere Cristian Biondi, anche egli ex Leonzio. Ma la campagna acquisti del Gela non è conclusa. No, ancora qualche altra cosina la dobbiamo fare. Ci sto lavorando e cercherò a breve di concludere. Adesso tocca a Tifosi dimostrare l'attaccamento alla propria squadra del cuore abbonandosi. In quest'anno vissuta a Gela ho percepito l'amore della gente per la maglia, per la squadra e sono sicuro che i tifosi risponderanno come sempre presenti e poi sarà noi col nostro sacrificio, col nostro lavoro, farli innamorare ancora di più della loro squadra. Continuano gli appuntamenti previsti nel cartellone dell'estate giolese con la musica colta promosso dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra di Gela. Domenica 6 agosto è previsto il concerto del duo Giampaolo Russo Chitarra e Rosita Peritore Pianoforte. L'evento si svolgerà presso l'ex monastero delle Benedettine ed è previsto per le 21.15. Appuntamento con le risate, venerdì 4 agosto, nel piazzale del teatro Antidoto di Macchitella a Gela. Alle 21 si sibilirà la compagnia Musco di Riesi in Cosimo U Mavaro di Francesco D'Arrigo. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie. 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 Grazie.